Ciao ragazzi, le feste di Natale sono appena passate ma non sono concluse, pertanto se dovete fare ancora qualche regalo ad amici e parenti vi ho portato un'altra idea, sono sicuro che con questo farete un figurone ed anche questo è alla portata di tutti, è un fantastico tagliere in effetto 3d, le dimensioni sono 40 x 45 x ben 5 cm di spessore, per creare questo tagliere sono andato ad utilizzare tre essenze, il liroco, il faggio ed il noce scuro, ragazzi ne ho fatto un piccolo tutorial pertanto vi chiedo di fare tre cose se volete replicarlo, la più fondamentale l'iscrizione al canale, un bel like sotto al video e la condivisione con i vostri amici, adesso vi lascio il video, ciao ragazzi! Ciao! Grazie a tutti. 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 Veloce veloce. Grazie a tutti. Mi era scordato di farvi leggere sull'etichetta non toxic. Grazie a tutti. Ragazzi, adesso la facciamo asciugare per 24 ore e noi ci ripetiamo tra due minuti. Bene ragazzi, allora adesso vado a togliere i morsetti, una pulita alla colla con lo scarpello e proseguiamo. Grazie a tutti. Così vi vedo anche la lama come si vedo la lama con la lama con la lama con la lama con il traverso vena. Se non mi dovesse piacere la vado a cambiare. Grazie a tutti. Allora ragazzi, adesso vado a tracciare una riga diagonale. la facciamo da 15 centimetri con toparo e ci esposiamo sulla troncatrice. Ragazzi, visto che sulla troncatrice non mi entra, vado di sega circolare e poi proseguo con il bancone. e poi proseguo con la troncatrice. neanche a dirlo mi servirà per un lavoro futuro. Ora, battuta impostata sempre a 5, vado a tagliarmi tutti i listelli. e poi proseguo con la troncatrice. ragazzi, seconda fase di incollaggio, come prima ma qui dobbiamo essere molto molto più precisi quando andiamo ad accoppiare i listelli. altrimenti ci giochiamo tutta quanta la precisione e il gioco 3d. io vado a mettere la colla a un lato solo, una faccia solo così evito che mi slitti. ok 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 allora ragazzi montata la presa a goccia adesso vado a fare la scanalatura a lungo bordo per la raccolta dei liquidi. mi sono preparato tutta quanta la cassaforma ho messo degli spessori per far sì che la scanalatura venga dove voglia io e chiaramente che non esca fuori e che quindi ho una battuta su tutti e quattro i lati. adesso accendo e ce lo andiamo a fare. adesso accendo e ce lo andiamo a fare. no no chi 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 alle ragazzi visto che avevo già la presa montata qua sul banco fresa vado ad utilizzare il banco presa se voi se voi volete continuare con il rifiutatore lo potete fare tranquillamente a a Grazie a tutti. Ragazzi ultima mano di rifinitura con la 180 vediamo se può abbastare o passare oltre. Grazie a tutti. Soltanto le prese da fare qui al lato e poi abbiamo terminato. Quindi ci rimettiamo sulla fresatrice. Allora ragazzi anche qui mi sono segnato l'inizio e la fine. Quindi sono andato ad impostare le battute. 13 e mezzo, 13 e mezzo. Le facciamo su entrambi i lati, chiaramente la parte sottostante e poi andiamo a dare l'olio e abbiamo terminato. Scendiamo l'aspirazione. Per ultimo ragazzi vado a dare olio di vasellina purissimo, in odore, in sapore, farmaceutico. Perfetto per gli alimenti, ma soprattutto perfetto per i taglieri. Grazie. 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 Grazie.